ecco queste sono le immagini della luna nera che ci sarà il 19 agosto domani ecco ma oltre al presagio funesto di cui parla l'articolo che andremo a vedere c'è anche un'altra indicazione che riguarda il presente ma lo vedremo poi ecco queste altre immagini della luna nera così come altre riportate da vari giornali pubblicate stamattina su internet ecco ma vediamo poi esattamente l'articolo di cui ho appena parlato pubblicato appunto da radio 101 il 19 agosto arriva la luna nera accompagnata da una sciame di stelle cadenti è uno spettacolo rarissimo assolutamente da non perdere il 19 agosto tutti con il naso all'insù per ammirare uno spettacolo unico nel suo genere nel cielo infatti ci sarà la luna nera o meglio non ci sarà la luna a incorniciare il firmamento arrivano una miriade di stelle cadenti le meteore k cc l'evento è raro e vi lascerà bocca aperta quest'anno in una sola stagione abbiamo avuto la bellezza di quattro lune nuove e quella che ci sarà tra qualche giorno appunto sarà la black moon il satellite sarà visibile il satellite non sarà visibile dalla terra il cielo sarà più scuro e potremmo ammirare tante stelle cadenti per esprimere tutti i nostri desideri il consiglio è quello di raggiungere un luogo senza inquinamento il luminoso luminoso per godere al meglio di questo evento speciale il significato delle black moon affonda radici molto lontane la luna nera era la prima compagna di abramo scacciata perché si era opposta al volere divino e qui che entrano in gioco miti e leggende insieme alla sensazione di un presagio nefasto che il termine porta con sé la luna nera è anche sinonimo di cambiamento di pulsioni profonde e lati oscuri dell'animo umano qualunque sia il significato ricordiamoci di alzare gli occhi al cielo per vedere questo spettacolo astronomico in tutta la sua bellezza e realità ecco ma quello che voglio far notare in questo evento raro è proprio il fatto che succederà la notte del 19 agosto si 19 come il covid 19 ecco forse il messaggio inquietante da luna nera è proprio questo sottolineare il covid 19 che sta colpendo le popolazioni di tutto il mondo e soprattutto uccidendo l'economia mondiale i cui effetti saranno i fassi per moltissime famiglie ecco ma andiamo avanti ecco perché qua ho ripreso i due link uno dell'articolo che ho appena letto della luna nera il 19 agosto che parla delle tantissime stelle cadenti e l'altro quello dell'incidente di cugno in cui i funerali sono svolti appunto l'altro giorno ecco sono morti cinque ragazzi dopo essere andato a vedere le stelle cadenti e io tempo fa col video e anche sui post spiegai come guardare le stelle cadenti su un segno negativo nefasto sì perché tutto ciò che cade e muore porta male è la fine di un sogno non la realizzazione di un sogno e questo è il motivo per il quale feci all'inizio di tutti i post che sono più di 3000 nel 2014 un video in cui dicevo che ho poi ripubblicato nell'ultimo circa un mese fa nell'ultimo video questo ecco questo è l'ultimo video di cui ho appena parlato in cui dico attroci divertimenti bisogna liberarsi dalle obsolete tradizioni ricevute perché spesso nascondono presaggi negativi come appunto il fatto stesso delle stelle cadenti perché la parte della stella che cade muore non è un segno positivo ma negativo e guarda caso proprio nei giorni passati quei ragazzi che sono saliti sulla montagna per vedere stelle al ritorno sono precipitati per un fatale non funzionamento dell'auto nel burrone sono morti cinque su nove ecco questo è un fatto eclatante enorme che dovrebbe far capire a molti che tutto ciò che muore e cade dal cielo è un segno negativo così come la luna nera indica guarda caso il tremendo e famigerato covid 19 che imperversa tutto il mondo la luna nera del 19 sembra proprio indicare questa nefasta catastrofe che sta colpendo il mondo intero e come già hanno parlato in una profezia avvenuta 103 anni fa potrebbe essere la fine del bel periodo che gli uomini hanno vissuto per cento anni dopo che iniziò dopo la tremenda spagnola che uccise quasi 100 milioni di persone dal 2018 al 2020 contagiandone colpendone un miliardo su una popolazione di un miliardo e mezzo che c'era allora all'epoca ecco la luna nera nefasto segno della luna nera potrebbe indicare proprio il covid 19 la luna nera del 19 sera parla e questo anche questo è uno degli ultimi video che ho pubblicato in cui faccio presente nei tre video superiori non per caso la realtà superiore 103 anni fa fece vedere a fatima nel miracolo del sole come sarebbe avvenuta alla fine del mondo si dopo un bellissimo periodo vissuto gli uomini il primo e unico nella storia iniziato appunto all'inizio del 1900 al termine dello stesso ci sarebbe stata alla fine del mondo o la fine del mondo degli uomini attualmente conosciuto la profezione madonna e la fine del mondo il titolo del video e anche questo uno fra gli ultimi video pubblicato due mesi fa faccio presente nel titolo apri gli occhi la fine vicino e la luna nera del 19 agosto sembra evidenziare quanto già scrissi due mesi fa sui post e sui video come dico quasi sempre al termine di ogni video nulla è certo questo mondo ma tutto è possibile bisogna solo aspettare per vedere se quanto ho detto e riferito come ho fatto anche in occasione del cielo rosso sangue su milano in lombardia e in altri posti è stato confermato poi dall'arrivo del coronavirus che ha colpito soprattutto la lombardia e milano con oltre 16 mila morti per il coronavirus come dire i fatti parlano bisogna saperli leggere solo nell'altro positivo ma anche nell'altro negativo perché spesso è proprio questo che accade e come ho spiegato su un video dopo la gioia arriva il dolore questa è la realtà sul pianeta terra senza dimenticare che negli ultimi nove anni da quando furono udite nel 2011 le sombe dell'apocalisse si sono seguiti dei segni premonitori inquietanti ogni parte del mondo come riportato sugli altri 3 mila video pubblicati sul canale lui ferri e questo vorrà dire qualcosa sì perché poi alla fine arriva alla fine se un po come le acque dei fiumi grandissimi in ogni parte del mondo che improvvisamente sono diventati glori sangue segni premonitori inquietanti che parlano di morte dalla spagnola di 100 anni fa al covi 19 nel 2020 anzi è iniziato nel 2019 19 come la luna nera grazie